eccoci finalmente si in partenza ragazzi ecco qua che si vede ancora pescara 20 chilometri che ho preso supporto ragazzi dietro del carri telepass giallo direzione gatteo papà la guida ehi qua suona ragazzi non è che siete tanto bene però un po contro sole ma qua c'è lo mimi ragazzi guardate lì tempi d'attesa firenze nord ragazzi è una scommessa che non ci arriviamo ai 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 noi siamo prima di rimini noi siamo prima prima di rimini va beh procediamo ragazzi e ci vediamo dopo con il video ufficiale all'hotel a tra poco ciao a tutti ragazzi io sono loris e 98 e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale oggi hotel splendid andiamo qua e ritornati gatteo mare finalmente sotto il viale giugno cesare vabbè a questo punto condiamoci la nostra vacanza qui ragazzi e quindi ci vediamo prossimamente eccoci qua ragazzi eh sì scusate un po' il casino che vedete adesso classica stanza 302 ovviamente ciao papà bagno questo è quello che siete fuori finalmente ragazzi classica viso oh che bella rietta che bella rietta qui fuori ecco il nostro bagno gli scogli guardate ragazzi è una favola credo che oggi sono un po' di ondine sei un po' ondoso c'è anche la piscina lì sotto allora ecco questo alla vista o un gabbiano ragazzi un gabbiano vabbè direi che niente proseguiamo procediamo allora ragazzi eccoci qua siamo pronti in tenuta da mare pronti ragazzi per andare praticamente giù lì alla spiaggia sì oggi ci sono come detto un po' di onde nel mare allora vi spiego brevemente come si svolgerà questa vacanza come giusto che sia ragazzi saranno ben due settimane quindi oggi è il nostro primo giorno perché come avete visto abbiamo fatto il viaggio poi ragazzi quest'anno ci saranno dei video dedicati solo esclusivamente al mare quindi vedrete dei vlog dedicati esclusivamente tipo alle serate quindi alla serata del Rubicone la piazza della libertà poi vedrete un video singolo dedicato a Castrocaro Terme dove andremo a visitare la Fortezza e Forlì troveremo ovviamente ragazzi un giorno poi video all'acqua fan ragazzi quindi quest'anno con tanto di gopro e pettorina poi video dedicato al bella fonte mini golf ragazzi quindi c'è anche un video dedicato al bella fonte magari qualche video dedicato anche al mare col materassino ragazzi quindi uscirò in materassino e farò vedere anche com'è il mare quest'anno beh adesso come detto è un po' mosso e poi ragazzi qualche gita in pedalò e sicuramente appuntamento ragazzi è il 25 di luglio con il carnevale dell'Adriatico e purtroppo ragazzi quest'anno nessun evento per quanto riguarda la famiglia di Youtube diciamo quindi non ci sono né Aurora Dovica non ci sono di insieme ragazzi che ci volete fare ormai sono passate il 14 di luglio siamo al 20 noi e quindi niente di insieme e niente Aurora Dovica però ragazzi sappiate che all'Oltremare c'è una novità dedicata a loro ma questo ragazzi ve lo dirò solo esclusivamente quando saremo all'Aqua Fun di Riccione quindi lì vi spiegherò esattamente che novità ci sono e soprattutto che sarà un anno importante per il parco di Oltremare ma questo ve lo spiegherò all'Aqua Fun quindi lasciamo stare adesso questo discorso ragazzi godiamoci il mare oggi e poi stasera vedremo quello che faremo quindi vedrete dei vlog di tutta la vacanza e dei vlog separati delle cose singole appunto che metterò sul canale detto questo ragazzi quindi procediamo con questa nostra vacanza 2024 qui a Gatteomare Summer Village Hotel Splendid e procediamo eccoci giunti alla sera nel mercatino qua c'è il solito mercatino del sabato è indietro qua c'è uno scivolo la mia bella è casolare questa è la canzone ragazzi e mai la sapete venire la sapete a memoria la canzone sono anche qua a cantarla questo è il mercatino del sabato adesso andremo all'arena Rubicone ad ascoltare un po' di concerto nel frattempo è qua il mercatino Romagna mia adesso proseguiamo procediamo e qui ragazzi c'è il mare dell'arena Rubicone con questi bellissimi scogli col molo Rubicone qua c'è l'arena Rubicone con tanto di palco forse andremo anche a vedere la statua di Giulio Cesare di là i giardini di Don Guanella e qui l'arena Rubicone e adesso ci godiamo lo spettacolo ragazzi quindi procediamo poesie ho trovato qualcosa che parla di me le ho scritte tutte con blu su pezzi di carta trovate qua e là dimmi dove dimmi come con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavi con me e che sapori e che umori che pevori e che profumi respiravi quando non stavo con te e che risulti viene da dirti ti amo e lo sai non l'ho detto mai sentiamo la voce di Gatteo quanta vita c'è quanta vita insieme a te tu che ami tu che non lo rifangi mai e lo smetti di usare come sei quanta vita c'è in questa vita insieme a te Andrea Federico la chitarra oh i miei nomi i miei nomi i miei nomi va a volerà dove è torno da te con una nuova muccia tanto non ti ricorda te tu vuoi il frago il panno il champagne un'isola deserta oh la 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 come una fregola e sa che mi gira la testa oh la 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 vuole farle sciampare il frago è sotto la luna stanno che un altro dirà non lo ha detto a nessuna a far morire domani torno da te con una nuova luce tanto non ti importa di me tu vuoi le frago tu vuoi me tu vuoi le frago me un applauso per le donne sembra una festa della donna e i can buy myself flowers right 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 living in the sand talk to myself in my world say thanks and don't understand i can pick myself dancing i can love one can i can love me better better i can can love me better can love me better can love me better wow for my joy wanna be i tempi for i che for i mar i joy i want to be si dine i vio i 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 Applausi con un urlo! Ragazzi siete forti, siamo già partiti, noi abbiamo in canna molti pezzi, vogliamo il massimo, mani! Non ho bisogno di tagliarmi le vene, sto tremando, sto tremando, sto facendo, uno indietro, di nuovo sotto un treno, sinceramente tu, sinceramente tu, e solo solo parole dopo il cuore. Grazie a tutti!